Sono Lucia e vi invito a partecipare in questi prossimi giorni alle iniziative che sono state organizzate e questi sono i nostri depliant. Ci saranno numerosissime iniziative, come ha detto Lucia, ad esempio ci sarà lo stand dedicato al futuro museo di Palazzo Marangoni. È un'originale innovazione, un'originale iniziativa ed è una grande possibilità per il nostro territorio di valorizzarsi in un certo senso. All'interno degli stand sarà possibile anche acquistare il fumetto che parla appunto della vita di Gianfrancesco, si chiama, appunto che parla della vita del Cardinale Brancati, quindi tutta l'infanzia che il Cardinale Brancati ha vissuto qui a Lauria. Mi chiamo Vincenzo, allora vi aspettiamo numerosi a questa manifestazione in modo tale da scoprire le varie lecce e l'organizzazione e si presenteranno numerosi libri, tra cui un libro dedicato alla Basilicata. Sono Claudio e oltre alle attività ci sarà anche la possibilità di mangiare e di stare in zio. E non dimentichiamoci anche dei più piccoli, per i bambini sarà distribuito gratuitamente del dolce zucchero filato. E come dice la mia amica Lucia, non andare via, vivi Lauria!